Cercherò di fare il meglio possibile sia dal punto di vista difensivo che offensivo e cercherò di portare a questa squadra le mie qualità e spero di essere d'aiuto e di fare un bel campionato. E' Daniele Rossi la terza pedina nel rosser dell'Amescuola Baschetta Rezzo, versione 2020-2021. Andrà anche a sostituire quel giocatore che aveva fatto innamorare un po' gli aretini, l'argentino Rodriguez che ha avuto questo incidente grosso l'anno scorso. In quel ruolo, secondo il nostro allenatore, secondo noi, forse il miglior giocatore che c'era in questo campionato, se non fra i migliori, era Daniele Rossi. Quindi abbiamo fatto di tutto per poterlo portare ad Arezzo e io sono veramente orgoglioso perché, oltre che essere un grande giocatore, è anche un ragazzo molto umile, un ragazzo che gioca per la squadra, un ragazzo che si adatta a quelli che sono, diciamo, forse le nostre prerogative di squadra. La guardia originaria di Figline Valdarno, ex Valdisieve, nelle ultime stagioni si è imposto per le sue doti nel campionato di Serie C Gold. Nella scorsa stagione è stato infatti impiegato per oltre 28 minuti a partita, ricambiando la fiducia di coach Pescioli a Valdisieve, sfiorando i 15 punti realizzati con percentuali del 40% al tiro da tre punti e dell'85% a tiri liberi. È stata appunto una scelta semplice, ne ho parlato anche con l'allenatore e il presidente dopo sette anni passati nella stessa società, dove mi hanno sempre fatto sentire a casa. Però il progetto di Arezzo e le ambizioni della società e anche dell'allenatore mi hanno portato a fare questa scelta e anche la voglia di rimettermi in gioco. Ho fatto tre allenamenti con la squadra, mi sono trovato bene fin da subito, alcuni ragazzi li conoscevo già, tra cui Carlo Provenza, con cui ho giocato anche due anni insieme a Valdisieve. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio, quindi spero che sarà così per tutto l'anno e troveremo un buon feeling per il campionato. Dopo la conferma di Tenev, l'acquisto di Pipisca, adesso l'ultimo colpo di mercato che conferma la voglia della mescola basket Arezzo di far bene nel campionato di Serie C Gold. Innanzitutto stare con i piedi per terra subito il più possibile, valutare di partita in partita. Noi come sempre, come l'anno scorso, noi siamo sempre una squadra, una neopromossa, è il secondo anno, non abbiamo neanche completato un anno. Quindi il nostro primo obiettivo che ci siamo dati con la società è raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi, se come l'anno scorso ci siamo bene dentro e riusciamo a raggiungere i play-off, sarà un risultato straordinario. Però prima, con umiltà e sempre con i piedi per terra, dobbiamo cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile.